da poco in casa grande sul super noi di super siamo pazzi per la musica rivivi la storia di un talento unico mica sempre in cingola la storia di un amore di questa ragazza speciale la storia di un amore di un amore di questa ragazza speciale dovevo andare guarda questa special dress diventa la stylist della tua anticipessa preferita crea magnifici arti tessuti preziosi per l'uomo e favola che spilata è indimenticabile grazie